Tutto pulito, guarda che roba qua. Polizia anche a livello. Parcociani qui. C'è il lago oggi che ha un colore strepitoso. Oggi è smeraldo. Oggi strepitoso, guarda. Oggi Lugano è strepitosa. Strepitosa. Guarda il lago oggi. C'è il lago oggi, è spettacolare. Qui puoi giocare anche a scacchi. Guarda qui che belli fiori. Guarda che roba. Spettacolo. Spettacolo oggi. Guarda che spettacolo. Pieno di turisti. Oggi veramente si sente parlare francese, tedesco, svizzero tedesco. Oggi veramente bello qua. Guarda che colore. Anzi meglio perché io preferisco il lago. Mamma mia che roba ragazzi. Che roba. No ma Lugano è il top ragazzi. Grazie. Lugano strepitoso. Oh data? 20 giugno 2020. Ok bravo. Adesso mi faccio un gelato qui che è buono. Devo farmi un gelatino per digerire. Oggi verde e smerato. Vi saluto dal Parco Ciani. Comunque di turisti ce ne sono qui. Lago pieno pieno di genti. Qui ci sono i gabinetti pubblici. Qui al Parco Ciani. Questo è uno dei posti più belli che c'è qui come zona. Guarda che bello. Sono qui un bel po' anche di italiani ho visto. Sono venuti qui a fare un weekend. Ristoranti pieni fino alle 11 e mezza di sera. Turisti. Guarda che bello qua. Spettacolo qua. Ho fatto il bagno. L'acqua si può fare. Bello bello. Oggi è spettacolo qua. Veramente spettacolo. Anche inglese ho sentito parlare. Ma adesso sono anche americane. Ci sono qui anche le papere. Guarda che roba. C'è anche una piccola palestrina all'aperto qui. Parco giochi. Guarda. Qui qua sembra di essere al mare. Guarda che colori. Oggi colore verde smeraldo. C'è qua pieno anche di turisti tedeschi, svizzeri tedeschi, anche italiani. Guarda che colore che c'è oggi. Mamma mia oggi. Guarda che bello oggi. Verde smeraldo oggi. Guarda che roba. Bellissimo oggi. Non l'ho mai visto questo colore. Guarda. C'è veramente oggi. Oggi veramente strepitoso. Oggi veramente il lago qui. Veramente pieno pieno di gente. Poi. Guarda che colore. Parco Ciani. Spettacolo. C'è il lago. Guarda che colore che ha. Qua sembra di essere al mare. Guarda che colori. Ovviamente c'è qua pieno anche di turisti tedeschi, svizzeri tedeschi, anche italiani. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Lugano. Allora. A parte il lago, spettacolare. Allora, sottopassaggio. Allora, questo qui è il sottopasso. Ditemi se da noi i sottopassi sono così. A parte che questo brilla. Cioè, guarda al sottopasso. Ci sono i quadri. Cioè, tutto pulito. Lo puliscono. Cioè, da noi sono così i sottopassi. Cioè, da noi sono così i sottopassi. No, ma ragazzi, qui siamo su un altro pianeta. Qui a Lugano, Svizzera, siamo un altro pianeta. Siamo 10 km di linea d'aria dell'Italia, ma siamo su un altro pianeta. Altro pianeta.